ma pensate voi che magagna una persona con disabilità oppure un genitore può farsi in giro ma come fa per correre tutta questa rampa di scala infinita è pericoloso no non capiscono che un bambino e caro mio sono problemi purtroppo ma vorrei dirla tutta sono in autora guardate nulla che vi posso aiutare e pensate è una persona con disabilità oppure un genitore con quarantina e cosa deve fare? il suo rischio per il bambino deve fare questo è una rampa di scala di Arlanta ah ok come va fare questa rampa di scala senza nulla che vi posso aiutare nagsishooting siya guys ng advertisement capitan V ma pensate un po' voi una persona con disabilità oltre un po' di scala rottina come fa a scendere questa rampa di scala infinita? ma a suo rischio pericolo proverà così ma è molto pericoloso e non è civile ma è il tutto a tutto ora siamo un po' di sicuro ma così Ma facciamo prima di fare, Fabio, ci sono un gancho d'Avo, un gancho d'Avo, non facciamo prima di fare, non facciamo. Ma ti sento o faccio? No, ferma, ferma. Ok. No. è troppo asferma pensate voi che magagna una persona con disabilità oppure un genitore può farsi in giro ma come fa percorrere tutta questa rampa di scala infinita è pericoloso non capiscono che un bambino e caro mio con problemi purtroppo guardate nulla che vi possa aiutare e pensate è una persona con disabilità oppure un genitore con carattina cosa deve fare? la sua riscobedicola deve fare questo la rampa iniziale si arrega come possiamo fare senza dire nulla che vi possa aiutare come possiamo fare senza dire nulla che vi possa aiutare la sua riscobedicola è una persona con disabilità la sua riscobedicola è una persona con disabilità capitan V la sua riscobedicola è una persona con disabilità la sua riscobedicola è una persona con disabilità ma è molto pericoloso e non è civile ma è una persona con disabilità la sua riscobedicola è una persona con disabilità la sua riscobedicola è una persona con disabilità facciamo prima di fare Fabio facciamo prima di fare facciamo prima di fare vai fermo o faccio guardare? ferma grazie